Su Radio Sound Piacenza 24 ospite oggi pomeriggio Mario Ida che è il direttore di Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio benvenuto. Bentrovati a tutti. L'occasione per noi è per affrontare con te Mario le situazioni che si sono verificate all'interno della struttura della mensa di via San Vincenzo e del successivo provvedimento insomma da parte vostra di chiudere. Che cosa è accaduto? Sono accaduti così degli episodi piuttosto violenti, gravi perché due persone sono finite anche al pronto soccorso quindi diciamo che abbiamo raggiunto un livello di violenza assolutamente mai trovato nel nostro ambiente. Al di là dell'episodio singolo quello che in qualche modo ci ha fatto prendere questa decisione piuttosto plastica, grave vi posso garantire anche molto 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 sofferta perché insomma non è facile neanche prendere una decisione come questa. Il fatto che negli ultimi mesi in maniera più o meno violenta però c'è un susseguirsi di così di fenomeni di violenza. Quali possono essere i possibili provvedimenti perché questo servizio davvero importantissimo per il territorio possa ricominciare? Ma intanto stiamo ragionando anche con le istituzioni, con le diverse parti della comunità perché si trovi una modalità diciamo migliore anche nel gestire situazioni di disagio che evidentemente queste persone accumulano durante la giornata. Il fatto che arrivi in mensa soprattutto la sera a seguito di una giornata diciamo magari fatto abuso di sostanze, di alcol oppure persone che hanno problemi seri di salute anche mentale ovviamente in uno stato completamente alterato. Quindi bisogna ragionare un po' su questi temi e capire a livello preventivo come poter lavorare sul territorio perché sì è un fenomeno che vediamo in Caritas però tanto in Caritas come in altre parti può accadere il fattaccio, non è solo in ambiente Caritas. Ci tenevo a giustificare ancora anche in maniera più precisa sulla decisione della chiusura della mensa perché c'è anche un dovere di salvaguardia dell'incolumità delle persone che va rispettato e fondamentale. Non solo degli ospiti, prima persona, dei volontari che dedicano del tempo, del loro tempo in maniera gratuita, spontanea per aiutare le persone e degli operatori. Quindi è chiaro che questa incolumità va garantita in qualche modo. Certo Mario, vi siete dati un tempo per poter riprendere le attività? Da un tempo ancora ci stiamo lavorando, stiamo cercando di capire anche se magari nel frattempo riusciamo a soddisfare almeno un bisogno primario in qualche altra maniera. Però è un work in progress, ci stiamo lavorando intensamente con tutte le parti. Prima di salutarci, ricordiamo che stiamo parlando di una mensa Caritas, c'era qualcuno che proponeva una sorta di ausilio e di sostegno naturalmente per la sicurezza, come dicevi tu, anche da parte dei militari. È un pensiero a cui, a dire la verità, non ci abbiamo neanche pensato, anche perché non è una situazione da militare, nel senso che ce l'abbiamo già in stazione, qui siamo in una condizione completamente diversa. Nel senso che le persone qui vanno aiutate preventivamente, perché se uno ha problemi di natura mentale va curato, se ha problemi di alcolismo o altro va curato. Non vogliamo certo arrivare alla soluzione del militare, non è questa la nostra modalità. Per noi è importante accompagnare le persone in un percorso riabilitativo, questo è fondamentale. La mensa ha sì lo scopo di dare da mangiare, è di servizio a tutto un progetto relativo alla persona, per noi è questo quello che conta. Era Mario Idda, direttore di Caritas di Uccesana di Piacenza e Bobbio, che è stato con noi su Radio Sound Piacenza 24. Come sempre noi saremo al vostro fianco e informeremo i nostri ascoltatori. Grazie. Grazie, grazie a voi tutti.